ben ritrovati tutti quanti in una nuova puntata del puzzillo del sud chi vi parla è il vostro sempre più palombaro puzzillo e oggi vediamo il tutorial e la recensione di endeavor abissi marini prima di iniziare come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui endeavor abissi marini è un gioco da tavolo competitivo da 1 a 4 giocatori della durata indicativa di 60 120 minuti a partita localizzate in italiano dalla crano creations che fra l'altro ringrazio tantissimo per avermi fornito la copia per potervi fare questo video e detto ciò possiamo iniziare con il tutorial e quindi vai con la spiegazione prepariamo una partita in due giocatori con la modalità competitiva innanzitutto si sceglie una scheda scenario e la si posiziona al centro del tavolo e poi si controlla la preparazione delle planche oceano in questa sezione specifica quali planche dobbiamo prendere e come sistemarle e per quanto riguarda le planche casuali vengono prese dall'apposita pila sistemata la mappa è il momento di preparare la riserva e dunque si prendono tutte le planche oceano le si divide per tipo e si mescola ogni pila separatamente e poi vengono mescolati coperti anche tutti i segnalini immersione non appena sono stati mescolati dobbiamo controllare tutti i punti di immersione nelle planche oceano e quindi casualmente formiamo delle pile di segnalini immersione il numero di segnalini è indicato sullo spazio immersione e mi raccomando lasciateli coperti fatto ciò prendiamo tutte le carte diario ancora le mescoliamo coperte e ne riveliamo quattro mentre le carte rimanenti vengono messe nella scatola poi accanto alla vetrina mettiamo tutte le carte senza il simbolo dell'ancora e il mazzetto delle carte diario viene mescolato coperto continuando mettiamo vicino la mappa il vassoio degli specialisti e quindi li dividiamo in base al loro livello mi raccomando bisogna mettere a faccia in su il lato blu e dunque nella colonna più a sinistra avremo tutti gli specialisti di livello 1 invece per quanto riguarda gli specialisti di livello 5 vengono messi casualmente e quindi si formano tre pile da tre tessere ciascuna fatto questo scegliamo casualmente il primo giocatore e gli diamo il segnalino onda e poi ognuno dei partecipanti sceglie un colore del colore scelto vengono presi tutti i componenti più la plancia giocatore e poi inseriamo i cubetti negli spazi che vedete fatto ciò prendiamo un dischetto dai nostri componenti e lo posizioniamo sul capo squadra in modo che vada ad occupare lo spazio indicato infine in base alle istruzioni dello scenario mettiamo la nave di partenza e quindi viene posizionata sullo spazio d'attracco non appena le pedine sono state posizionate viene preso al bonus di quella zona e se si ottiene un gettone azione lo si piazza nella propria area di raccolta non appena tutti i partecipanti sono pronti a giocare allora si può cominciare una partita di endeavor a bissi marini dura esattamente sei round ogni round è diviso in due fasi e vediamo subito la prima fase ovvero fase di preparazione qui a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario bisogna completare i passi indicati e quindi per prima cosa bisogna reclutare un nuovo specialista la posizione del cubetto nel tracciato più in alto indica il livello massimo dello specialista che si può reclutare e nel primo round di gioco bisogna reclutarlo per forza di livello 1 per prendere una tessera si controlla il bassoio degli specialisti e si vede la colonna di riferimento e dunque per uno specialista di livello 1 si può prendere una tessera solo dalla colonna più a sinistra mi raccomando dopo che la tessera è stata recuperata tenetela sempre sul lato blu e quindi bisogna posizionarla accanto alla propria plancia di gioco se la tessera presenta delle icone nello spazio indicato a sinistra allora il giocatore guadagna immediatamente solo una volta la ricompensa raffigurata e se è presente l'icona di uno dei quattro tracciati personali semplicemente si avanza di uno spazio la posizione del proprio cubetto in quel tracciato se il cubetto raggiunge un'icona prestampata allora si ottiene un bonus come mostrato dalla figura e nel caso di una nuova nave bisogna controllare lo spazio di partenza che è indicato sulla scheda dello scenario e dunque per lo scenario 1 è lo spazio stella marina come visto nel setup si guadagna immediatamente la ricompensa associata e quindi nell'esempio del gettone se ne prende uno dalla propria riserva personale e lo si posiziona nella propria area di raccolta invece per quanto riguarda l'icona dell'impatto bisogna prendere un segnalino impatto dalla propria riserva personale e lo si deve piazzare sulla scheda dello scenario il punto di partenza può essere uno degli ingressi che è segnato dalla mappa oppure lo si può piazzare adiacente ad un altro segnalino non appena lo spazio è stato coperto viene presa la ricompensa associata e nel caso del dna si avanza il cubetto su questo tracciato il tracciato dna è limitato fino a un massimo di 12 mentre gli altri tracciati sono infiniti se un giocatore muove il proprio cubetto oltre il dodicesimo spazio allora torna nuovamente al decimo e ottiene la ricompensa dell'impatto e dunque si ripete la procedura sulla scheda missione non appena la tessera equipaggio è stata presa e gli effetti immediati recuperati allora il giocatore deve controllare il prossimo tracciato e la posizione del cubetto sul nostro tracciato verde indica quanti gettoni prendiamo dalla riserva generale e li posizioniamo nell'area di raccolta poi continuando si controlla la posizione del cubetto sul tracciato giallo e quindi bisogna rimuovere i gettoni dalle tessere equipaggio in modo così da renderli disponibili e utilizzarli nella prossima fase i dischetti rimossi vengono sempre messi nell'area raccolta e non appena il giocatore ha finito tocca al prossimo giocatore in senso orario non appena tutti i partecipanti hanno concluso con la prima fase si passa direttamente alla seconda e anche qui si comincia a partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario durante il proprio turno il giocatore attivo deve attivare una tessera equipaggio e mi raccomando la tessera deve essere libera ovvero senza gettoni azione non appena il giocatore ha scelto la tessera equipaggio che vuole attivare allora recupera un proprio gettone dall'area raccolta e lo posiziona sulla tessera che ha scelto non appena il gettone è stato messo sulla tessera allora si risolve il suo effetto e per quanto riguarda più icone con la barra bisogna sceglierne soltanto una invece se vi sono più icone si possono risolvere tutte oppure in parte e vediamo le azioni principali partendo da viaggiare per spostarsi il giocatore controlla la posizione del cubetto sul proprio tracciato blu e le icone sotto il cubetto indicano il numero di spostamenti massimi come anche le tessere profondità che si possono raggiungere ogni punto movimento permette di spostare una propria nave su una tessera adiecente e mi raccomando i vari movimenti possono essere effettuati solo in ortogonale per poter scendere bisogna sempre controllare la propria velocità massima e dunque il giocatore viola può scendere fino a profondità 2 se il giocatore possiede più di una nave sulle plance allora purtroppo ne può muovere soltanto una e quindi non può suddividere i movimenti tra le sue navi non appena la nave mossa è arrivata sullo spazio di destinazione allora il giocatore recupera subito la ricompensa associata e poi ottenuti bonus l'azione si conclude procedendo vediamo la prossima azione ovvero immersione e per prima cosa bisogna controllare se vi sono dei segnalini immersione nella stessa plancia oceano con una nostra nave con esito positivo si pesca il primo segnalino dalla pila e lo si rivela a tutti e poi il segnalino viene recuperato il segnalino può essere utilizzato immediatamente oppure conservato e per conservarlo lo si posiziona su questo spazio della propria plancia mi raccomando è possibile conservare al massimo un segnalino e il suo effetto può essere utilizzato come azione gratuita durante il proprio turno non appena sono stati ottenuti bonus il segnalino viene scartato e vediamo adesso l'azione sonar in primis bisogna controllare se è presente uno spazio sonar nella plancia oceano con una nostra nave e poi bisogna posizionare un secondo oggettone sullo spazio più a sinistra del tracciato sonar lo spazio occupato fa pescare due planche oceano dalla riserva generale e il giocatore può scegliere tre livelli raffigurati sullo spazio nell'esempio che state vedendo si possono prendere planche di livello 1 come anche planche di livello 2 e dunque si possono recuperare dello stesso livello oppure misti per ottenere le planche si prendono dalla cima delle loro pile e dopo che il giocatore le osservate ne rimette una in fondo alla pila mentre l'altra deve essere aggiunta all'area di gioco nel caso delle planche di livello 1 bisogna vedere se si possono aggiungere in base allo schema della missione scelta e quindi come vedete nella riga di profondità di livello 1 vi possono essere al massimo cinque planche ovviamente la plancia che si sta aggiungendo deve essere collegata un'altra plancia e quindi il giocatore che l'ha piazzata ottiene i bonus su questo spazio attenzione se è presente quest'icona significa che bisogna piazzare dei segnalini immersione e quindi si ripete la procedura che abbiamo visto nella preparazione invece per quanto riguarda le planche che devono scendere in profondità semplicemente controlliamo il livello e iniziamo a scendere e come sempre le planche devono essere collegate a planche preesistenti non dimenticate che fino a quando non si migliora il movimento non si può scendere in determinate profondità e se durante la pesca trovate una plancia oceano con quest'icona allora la dovete rimettere in fondo alla pila se la plancia non è compresa nella descrizione dello scenario proseguendo vediamo la prossima azione ovvero conservazione e come per l'azione precedente vi deve essere il simbolo della conservazione in una plancia oceano con una nostra nave e poi dobbiamo posizionare un nostro gettone sullo spazio conservazione scelto in aggiunta bisogna anche pagare l'eventuale costo in materiale genetico e ciò significa arretrare il proprio cubetto sul tracciato del dna non appena è stato pagato il costo il giocatore ottiene la ricompensa dello spazio che ha appena coperto e poi se entrambi gli spazi di nuolinea verde sono occupati da gettoni allora entrambi i giocatori ottengono il bonus che sta in mezzo infine come ultimazione principale vediamo il diario e anche qui bisogna controllare se vi sono spazi diario nella plancia oceano con una nostra nave lo spazio scelto deve essere subito occupato con un nostro gettonazione e poi in base al colore dello spazio occupato si può prendere una carta ad esempio il giocatore viola ha occupato uno spazio giallo e quindi può scegliere una di queste carte in aggiunta se è presente un costo deve essere pagato e non appena la carta viene prelevata viene subito sostituita la carta presa viene subito aggiunta alla propria area di gioco e poi il giocatore che l'ha presa applica questi effetti invece se è presente questo riquadro fa riferimento a tutti gli altri mentre altre carte forniscono delle azioni una tantum occupando lo spazio indicato il giocatore può subito effettuare un'azione di scansione e se trovate dei punti vittoria si guadagnano nel conteggio finale inoltre tra i vari effetti è presente la promozione di una tessera e se trovate quest'icona dovete capovolgere una vostra tessera equipaggio dal lato blu al lato giallo se la tessera presenta un gettone questo viene scartato e in caso di icone su questo lato si guadagnano subito gli effetti la tessera adesso è diventata più efficiente oltre che nuovamente libera e quindi poi con un nuovo gettone azione la si può nuovamente occupare se il giocatore è attivo non vuolo non può svolgere azioni allora deve passare e quando un giocatore passa non può più agire per il round in corso non appena tutti i presenti hanno concluso allora si passa il segnalino dell'onda al prossimo giocatore in senso orario e quindi poi si deve ripartire con il nuovo round la partita si conclude non appena vengono svolti se round in totale e quindi si passa subito al conteggio finale qui se i giocatori hanno membri dell'equipaggio di livello 5 potenziati allora controllano le condizioni per ottenere i punti vittoria e poi bisogna passare alla plancia impatto ogni spazio occupato giallo fornisce un punto vittoria mentre ogni spazio arancione occupato fornisce due punti vittoria poi si controllano tutti gli obiettivi di fine partita sempre sulla scheda missione e quindi si ottengono i punti come indicato da ogni obiettivo assieme alle maggioranze perché ha svolto meglio il compito continuando si guadagnano i punti vittoria in base alla qualità e dunque bisogna controllare la posizione di ogni proprio cubetto così da ottenere i punti vittoria indicati nella cima della sua colonna ad esempio nel tracciato giallo il giocatore ha ottenuto 10 punti vittoria mentre nel tracciato verde ne ha ottenuti soltanto 4 poi bisogna dividere per 3 tutti i gettoni azioni rimasti assieme al materiale genetico e nell'esempio che vedete il giocatore guadagna un punto vittoria infine si guadagnano i punti vittoria delle carte di aria ottenute e alla fine del conteggio chi ha più punti vittoria vince arriviamo infine alle mie impressioni su endeavor abissi marini allora partiamo col dire che il precedente endeavor è un gioco davvero molto molto carino però con il passare degli anni si sente che sta invecchiando per quanto i giochi siano diversi devo ammettere che ho preferito quest'ultimo perché comunque propone una formula più moderna senza sacrificare la profondità profondità abissi marini partiamo col dire che siamo di fronte a un gioco facile da spiegare ma difficile da padroneggiare e infatti il flusso della partita è davvero snello e senza fronzoli in primis dovremo scegliere uno degli scenari disponibili che cambieranno alcune regole di gioco come ad esempio la disposizione delle plance o i punteggi finali poi durante i vari round ci sarà la scelta dei membri dell'equipaggio e qui dovremo capire chi prendere per ottenere le azioni migliori veramente riuscito il sistema dei tracciati che vanno a calcolare le nostre entrate e quindi dovremo fare attenzione non solo ai livelli dell'equipaggio che potremo reclutare ma anche i dischetti recuperati come le tessere sbloccate infine l'ultimo tracciato che non abbia esplorazione con maggiori possibilità oltre ciò ho trovato davvero molto carino lo sviluppo del tabellone in base alle scelte dei giocatori e questi a secondo le scansioni che faranno aggiungeranno diverse tessere insomma sul fronte della rigiocabilità il titolo ne ha tantissima perché non solo abbiamo i diversi setup di partita in partita ma anche un sacco di possibilità in base alle azioni che svolgeremo tra modalità competitive e cooperative ve lo potrete praticamente giocare in qualsiasi configurazione però per mio gusto personale l'ho preferito con meno partecipanti alla fine stiamo parlando di un gestionale peso medio che dura al massimo un'oretta e mezza e le due ore ci scappano al massimo quando sia in tanti e non si conoscono le regole tra le cose che ho apprezzato di meno vi è sicuramente l'interazione che è poco marcata e infatti il tutto si riduce a prendere prima spazio bonus altra cosa mi sarei aspettato qualcosina in più per quanto riguarda l'ambientazione e data la sua natura da aerogame è piuttosto freddo invece per quello che riguarda la componentistica hanno fatto un lavorone e sto parlando sia di quantità che di qualità dei materiali unica cosa vi consiglio di avere un tavolo piuttosto grande specialmente se si espande molto il tabellone perché comunque tra segnalini vassoie e plance occupa davvero tanto spazio prima di concludere vorrei spendere due parole sul fattore fortuna e purtroppo ogni tanto questo si fa sentire specialmente per la pesca dei segnalini immersione qui trovare il segnalino giusto può fare la differenza perché comunque si potrebbero sbloccare azioni o bonus a cascata occhio non vi sto dicendo che la fortuna è esagerata ma semplicemente che la si sente e dunque se volete qualcosa di più deterministico fate attenzione d'altro canto bisogna anche adattarsi in base a quello che faranno gli altri perché ad esempio recuperando una carta diario potremo ottenere un vantaggio non previsto in definitiva in devora bissi marini mi è piaciuto più del suo predecessore perché porta un gioco più snello semplice e moderno ma senza sacrificare la sua profondità che lo rende comunque un gioco elegante se avete modo di provarlo dategli assolutamente una possibilità perché detto onestamente è uno dei migliori gestionali dell'ultimo periodo detto ciò siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere un pochettino cosa ne pensate l'avete già provato vi è piaciuto il tutorial concordate con la mia recensione fatemi sapere la vostra commentate qua sotto vi ricordo infine di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che usciranno non dimenticate di attivare la campanella e se volete ottenere i vantaggi esclusivi premete sul tasto grazie o abbonatevi cliccando qui vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao a tutti